o parte non c'è subito foto foto di risultati me di tutti mai cari compagni siamo qui venuti di nuovo qui nel tegurio diciamo che c'è un porco dubbato un altro porco no roba il cazzo fai parlare allora diciamo abbiamo lanciato l'ultima festa i cornuti che si rite ciao a tutti tutto quanto si ma dolby sorrano ciao a tutti diciamo che entro lì sta al forno che sta facendo la carne qui come sapete qui come sapete ci sono gli uomo sapiens qui gli uomo sapiens i cantanti uomo sapiens abbiamo i camaleonti l'equipo d'antaquattro Agatha tu mi capisci Agatha subisci hai rotto l'uomo per me parapapapapara Agatha tu mi stupisci Agatha subisci hai rotto hai rotto un uomo per me a a Sì